Si è conclusa ieri sera a Montorio Alvomano la festa di San Gabriele che chiude anche il cartellone degli eventi estivi dell'amministrazione comunale Gran Sasso Live. A precedere il concerto di Marco Morandi un Alexio Magistralis di Vittorio Sgarbi sulle scoperte e rivelazioni nel mondo dell'arte. Il sottosegretario, prima del suo intervento, ha visitato insieme al sindaco altitonante alcune chiese del borgo. E' chiaro che occorre un'attività più alacre e più intensa per restituire un paese che alla fine vive alla sua dignità precedente ai due terremoti dell'Aquila e di Amatrice. E viene, per quelli che qui hanno abitato e hanno vissuto e vivono, viene da pensare al terribile terremoto del Marocco che ci fa sentire fratelli di quelli che stanno dall'altra parte del mare e che vivono in un posto tra l'altro di grande turismo come Marrakesh, una situazione di angoscia, di dolore e di morte. Però insomma alcune cose sono state fatte con un buon impegno, i lavori per il comune, le attività istituzionali, mi pare che funzionano tutte. E poi sulle chiese si può andare avanti, anche su alcuni palazzi. Però è singolare che uno pensi a quanto tempo ci vuole per ritornare alla vita normale, perché il terremoto dell'Aquila è del 2009, quindi sono passati ormai 14 anni forse. E quindi viene una certa malinconia per luoghi che sono stati integri e legati alla natura, vedere che quelli che abitavano nel centro storico non ci sono e chissà quando torneranno, forse non torneranno più. Tutto questo comunque non toglie che c'è molto impegno da parte del comune con un buon amministratore che essendo tra l'altro consigliere legionale di Lombardia, è stato anche mio collega, ha un rapporto molto stretto con il potere centrale ed è giusto quindi che i sindaci abbiano poteri potenziati in qualche modo anche dalla loro capacità di agire sul piano istituzionale, non solo nella condizione di sindaco ma anche in quella che l'esperienza ha dato al titonante di consigliere legionale a Milano, quindi la prima regione d'Italia. Quindi questo è sicuramente utile, è un'azione missionaria che in qualche modo si compie quando si porta un'esperienza più avanzata in un luogo che altrimenti forse sarebbe seduto magari con un sindaco stanziale che però non sa da che parte muoversi e come agire.